Noi di Schineco più che di idratante e nutriente pensiamo alla cosmesi come una cosmesi normalizzante, cioè che rimetta in ordine quel film idrolipidico che è fatto di acqua, di sebo, di detriti cellulari, di principi attivi naturali, di microbiota. Questo equilibrio è importantissimo per mantenere in ordine la pelle. Un cosmetico che ci aiuti deve in qualche modo tenere in ordine le varie componenti del film idrolipidico, quindi l'idratazione, il nutrimento, che si fanno attraverso l'utilizzo di grassi, il più possibile di estrazione vegetale, ma anche di chimica mica, purché siano affini alla pelle e quindi dermocompatibili veicolati dall'acqua, quindi emulsioni acqua in olio, olio in acqua a seconda del biotipo cutaneo.